rassegna stampa di oggi martedì 25 agosto 2020 buongiorno ben ritrovati cari telespettatori di fanno tv sul canale 17 adesso ci sono le previsioni del tempo poi i giornali con la lettura dei titoli delle notizie più importanti cominciamo però dal santo del giorno la chiesa ricorda oggi san giuseppe calasanzio il sole sorto alle 6 26 tramonterà alle 8 in punto di questa sera bella serata è trascorsa con un po di pioggia la nottata le prime ore di questa mattina poi il tempo è diventato sereno e lo sarà per tutta la giornata di oggi per domani mercoledì 26 ancora cielo sereno poco nuvoloso stessa cosa 27 giovedì con temperature che saranno ancora in aumento soprattutto quelle della notte nei valori minimi insomma indicazioni tempo stabile anche per il resto di tutta questa settimana prima di rivedere la pioggia c'è ora un po di tempo e allora andiamo a vedere come si presenta il mare questa mattina con il nostro tommy buongiorno tommy buongiorno marco buongiorno condizioni meteo marine per la giornata di oggi dopo la pioggia che ha rinfrescato un po forse no sì sì che a rinfrescato si sente si sente già anche qui al mare un pochino più fresco condizioni meteo marine comunque favorevoli abbiamo ancora al mare un pochino mosso dopo il vento che ha tirato due giorni fa però bellissimo quella che vedo là dietro è la tua postazione la torretta scusa spostati un pochettino ecco quella lì è la torretta sì 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 e tu vai lì anche stai lì è certo dalle dalle 10 alle 14 il mio turno è lì sopra e stai sempre con gli occhi puntati sulla gente che sta in acqua assolutamente sì quindi ormai li conosci tutti quanti insomma puoi fare l'appello con la scuola sì sì il bello è che ormai conosci le abitudini di tutti i clienti della spiaggia di tutti i bagnanti e ormai la routine è costante e immagino che per richiamare qualcuno tu abbia un fischietto no sì certo domani domani si cerca sempre di non abusarne troppo perché perché non è mai troppo bello richiamare una persona fischietta diciamo che serve in caso di estrema necessità ecco quindi sei uno che non lo usa tanto via no non tantissimo domani te lo faremo usare sentiamo il fischietto ci dai il via per la rassegna stampa di domani grazie tommy buona giornata buon lavoro andiamo a vedere allora adesso i giornali tamponi post vacanza via crucis questo il titolo del resto del canino di oggi in apertura questa edizione di pesero è il racconto di una famiglia che è tornata dalla croazia e che ha atteso diversi giorni per effettuare il test un test che lo ricordiamo è obbligatorio e loro dicono però sono giorni che aspettiamo ragazzi pensate ai nonni invece la fotonotizia riguarda la situazione attuale che comunque nella nostra provincia sta decisamente migliorando ma c'è un'intervista che il carlino ha realizzato con il primario di terapia intensiva del san salvatore di pesero di marche nord e che fa anche lancia un appello ai giovani ragazzi pensate ai nonni appunto sono come dire l'anello debole sono i soggetti più deboli quando parliamo di covid 19 la politica ecco zingaretti a sostegno di mangialardi giovedì a piazzale collenuccio arriva il segretario del partito democratico per sostenere la campagna elettorale di maurizio mangialardi candidato del centro sinistra alla presidenza della regione l'incontro è fissato per giovedì sera alle ore 21 in piazzale collenucci mentre sempre per quanto riguarda il covid assembramenti rischio contagio e polemica su via cavur dunque non solo la zona del mare a pesero poi un murales al campus dedicato a Liliana Segre almeno questo è il progetto a pesero e poi sempre a pesero mostra del cinema il giorno il gran giorno di Oliver Stone il grande regista protagonista regista americano odissea sul traghetto rissa sfiorata una famiglia racconta lo vedremo tra poco nelle pagine interne l'odissea vissuta in un traghetto senza aria condizionata mentre sotto passaggi festival che ormai è al via grandi nomi comincia Augas al via domani la rassegna che porterà nella città della fortuna più di 100 ospiti il basket supercoppa confermata in sardegna nonostante i casi sull'isola la lega rassicura tutti la lega di basket vuole dunque ad olbia dal prossimo 3 di settembre il corriere adriatico l'apertura il titolo aule insufficienti giù i muri il comune il comune di pesero investe 520 mila euro per una corsa contro il tempo alla ricerca di ulteriori spazi l'obiettivo è ingrandire le stanze per le lezioni ma anche individuare più aree per le emense a centro pagina la fotografia invece del figlio del grande portiere zenga che di ritorno dalla sardegna è stato trovato positivo il mio covid neanche il mal di gola dice lui però sono positivo perché sono stato infettato da altri colleziona otto denuncia pesero da in escandescenze finisce diritto in cella e poi incrocio pericoloso adesso basta dateci la rotatoria e sull'ospedale a muraglia il movimento 5 stelle contesta la linea di mangialardi la gestione della rocca modello per tutto il paese ufficiale l'andamento l'affidamento al comune nuove sinergie per potenziare l'attrattiva della fortezza medievale stiamo parlando della rocca di gradare poi passaggi festival inaugurazione domani a fano con oliver stone e ripartiamo dalla pagina di fano del resto del carlino questa è la fotografia dell'anno scorso con una piazza gremita l'anno scorso di questi tempi insomma del covid nemmeno l'ombra non sapevamo nemmeno e non esistesse e poi passaggi il titolo riempie la piazza prima di cominciare il via domani la rassegna dedicata alla saggistica con grandi ospiti internazionali spazi già quasi sold out cioè spazi già tutti riempiti ci sono già le fotografie di alcuni dei protagonisti che animeranno questa edizione ema stoccolma al pincio sabato 29 alle 21 e 30 corrado corrado augias in piazza mercoledì 26 alle ore 21 poi c'è tiberio timperi in piazza sempre venerdì 28 alle 10 e mezzo di sera e poi c'è il dj linus che animerà il pincio giovedì 27 alle 21 e 30 ma c'è anche fano capitale della cultura la città presenta la sua candidatura oggi alle 21 e 15 all'ex chiese di san francesco la città di fano presenta il dossier di candidatura capitale della cultura 2022 improntata sul tema fano 2022 architetti dell'umano ci saranno ivano ivan antoniozzi project manager manager della candidatura poi armando massarenti che dialogherà con aldo bonomi davide rampello e leopoldo freire sui contenuti di questo progetto mentre sulla pagina del corriere di attico di fano c'è la notizia che riguarda sempre passaggi alta qualità e sicurezza anti covid passaggi si apre con univers stone da domani cinque giorni di incontri di rilievo culturale oltre ai saggi spazio anche alla poesia al fumetto e arti varie questo è il momento della conferenza stampa di presentazione e l'addio più struggente buon compleanno mamma questo è il titolo invece di taglio basso sempre sulla pagina di fano del corriere gli auguri ieri su facebook del figlio francesco oggi le esecue di cinzia gregorini deceduta sabato scorso a causa di una malattia implacabile e il figlio francesco ha scritto appunto tanti auguri mamma ieri cinzia avrebbe compiuto 59 anni oggi alle 10 il suo funerale nella chiesa nuova del carmine a fano nel quartiere di gimar la stessa chiesa dove disse addio a sua figlia benedetta 15 anni fanese che fu uccisa nella calca della discoteca lanterna azzurra a corinaldo in provincia di ancona nel dicembre di due anni fa ancora dai giornali questo questa è la pagina 17 del resto del carlino la politica difendo il santa croce ma l'ospedale va fatto minardi candidato al consiglio regionale con il pd rivendica la paternità del protocollo con la regione e parla di viabilità 5 stelle misure anti covid i vigili dice hanno fatto bene a multare i giovani senza mascherina anzi facciamo più controlli dice minardi mentre sotto sanità ser filippi tuona e nuova fanno consegna le firme il candidato della lega parla di visite cancellate e tempi di attesa infiniti raccolte 2000 firme a difesa del nosocomio cittadino per quale ragione queste difficoltà non si registrano nella sanità privata paghi e fai tutto subito questa è la differenza di trattamento odissea sul traghetto sfiorata la rissa famiglia di mondolfo di ritorno dalla sicilia denuncia bloccato l'impianto di reazione a causa del covid si soffocava per non parlare del resto ad un certo punto sono arrivati i militari alcuni passeggeri hanno deciso di scendere dalla nave e un uno di sé al ritorno dalle vacanze in sicilia su questo traghetto con un viaggio definito da incubo pagato tra l'altro 520 euro senza aria condizionata nella sporcizia circondati da ubriachi che gironzolavano senza mascherina a denunciare tutto questo è jessica cecconi che vedete in questa immagine 29 anni di mondolfo e che con il marito e due figli piccoli di 4 e 9 anni ha trascorso le ferie a san vitolo capo nota località balneare nei pressi di palermo sulla pagina invece di l'altra pagina di farlo del corriere la storia di una vita di stenti e di abbandono di un cane che vedete in questa fotografia siamo nel canile di tre ponti gestito dalla melampo il cane soccorso morto ribattezzato giango alla melampo si sono dovuti loro malgrado allenare agli addi la popolazione del canile è in larghissima prevalenza anziani anziana dunque cani con molti anni e la separazione dagli amati compagni di viaggio rappresenta un evento tristemente ricorrente che si consuma tra le inevitabili mestizie alla sincera gratitudine per il tempo condiviso questa volta la morte è toccata questo giango e i volontari raccontano al giornale insomma come qual è stata un po la sua vita una vita un po difficile trovato priva privo di chip 13 anni passati in condizioni pietose e senza alcuna segnalazione mentre da pesaro viola il daspo e colleziona otto denunce da in escandescenze e viene arrestato questa volta anche i poliziotti che lo conoscono bene è un trentenne della sierra leone già arrestato in passato per spaccio di sostanze superfacenti questa volta dicevo gli agenti non hanno potuto far altro che arrestarlo anche perché la lista è lunga domenica mattina è stato segnalato da alcuni cittadini alla stazione del treno di pesero mentre importunava alcuni passeggeri in transito era visibilmente ubriaco e dava fastidio insomma molestava le persone e i passeggeri gli agenti della squadra volante sono arrivati sul posto lo hanno identificato lui per tutta risposta li ha insultati però tra l'altro non doveva nemmeno essere lì perché aveva appunto questo daspo urbano un divieto praticamente di ingresso nelle zone di in alcune zone della città di pesero tra le quali appunto la stazione ferroviare e di conseguenza è stato è stato arrestato si rompe nella notte invece una tubatura dell'acquedotto intervento dei tecnici di marche multiservizi in via troisi alla celletta un guasto risolto poi nel corso della mattinata ma c'è anche altra cronaca qui di spalle pneumatico di un camion va a fuoco in autostrada a pochi passi sterpaglia in fiamme ma rapido intervento dei pompieri di pesero ieri mattina sulla 14 tra pesero e fano in direzione sud dove un camionista ha attraversato una brutta avventura dopo aver frenato il sistema si è rotto e una delle ruote per il calore che si è sviluppato nella frenata ha preso praticamente fuoco e questa è la l'immagine del soccorso dei pompieri. Adesso la pagina dedicata al covid diamo un'occhiata alla situazione come facciamo tutte le mattine per renderci conto anche di come stiamo andando in questa in questa in questo tempo sapete potute inutile nascondercelo la preoccupazione c'è per quello che potrà accadere nei prossimi mesi dunque navighiamo a vista sì ma cercando sempre di avere la barra dritta quindi di sapere come stanno andando le cose nella nostra regione nella nostra provincia sta andando abbastanza bene diciamo la verità sta andando bene intanto va bene le terapie intensive sono tornate di nuovo vuote dopo quella quella quel ricovero di qualche giorno fa con quel sessantenne fanese che è stato portato ed è stato anche intubato per qualche giorno in questo momento nessun paziente si trova in reanimazione 13 sono i ricoverati per covid tornano a scendere i positivi attuali in tre ieri tre casi in tutta la regione nessuno ha in provincia di pesero quindi pesero urbino zero contagi sia ieri che ieri l'altro quindi due giorni senza contagi e questi tre registrati nella giornata di ieri sono stati tutti nell'anconetano dopo due persone dopo le vacanze in grecia e in sardegna tra cui lo vedremo tra poco c'è anche andrea zenga il figlio del portierone walter zenga dalla fine del lockdown i positivi attivi si sono ridotti a meno di un in quinto nelle marche il 53 per cento dei nuovi contagi come abbiamo visto è di rientro praticamente dall'estero e adesso invece sul carlino la l'intervista di simona spagnoli a al primario di reanimazione di marche nord michele tempesta che vedete in questa fotografia lui dice i giovani pensino ai loro nonni invita dunque il primario a difenderci dal pericolo rispettando le distanze indossando le mascherine in attesa del vaccino il paziente appena estubato lo abbiamo curato con il plasma iperimmune il paziente ve l'abbiamo già detto è il fanese di 60 anni va evitato dice ancora tempesta che l'apertura delle scuole possa ritornare riportare scusate il contagio nelle nelle case e questa è una è un aspetto tra quelli che chiaramente ci tengono un pochettino un po con il fiato sospeso perché non sappiamo davvero come come andrà da una parte come abbiamo visto ci sono gli insegnanti tanti insegnanti che hanno una certa età molti di loro e quindi sono preoccupati dall'altra ci sono i genitori con gli alunni che siano altrettanto preoccupati per come dovranno vivere la loro giornata a scuola mascherine non mascherine e quant'altro insomma in tutto questo ci sono gli anziani poi gli anziani qualcuno l'altro giorno vi faceva notare che nel caso in cui qualche alunno dovesse essere trovato capiterà per esempio positivo a scuola oltre a tutto l'ambaradam che succederà in aula e nel plesso scolastico chi andrà a prendere indovinate un po chi andrà a prendere spesso questi bimbi trovati positivi molto probabilmente saranno i nonni perché poi magari i genitori lavorano si trovano in difficoltà eccetera eccetera quindi sono comunque a rischio ma diciamo che hanno imparato a difendersi e a difendersi bene non è come a marzo o a febbraio sotto invece come dicevamo zero contagio nella nostra provincia forse a Ferragosto è andata bene anche qui l'analisi di quello così come abbiamo fatto il 10 di agosto con la notte delle candele a Pesaro a Ferragosto che è andata peggio invece con tutti gli assembramenti poi tutte le polemiche che ne sono scaturite soprattutto a Pesaro che sono costate anche la testa del comandante della municipale Galdenzi insomma possiamo dire che forse Ferragosto è andata bene anche se gli addetti ai lavori invitano ad aspettare prima di dichiarare lo scampato pericolo quindi aspettiamo ancora qualche giorno ma per il resto insomma come abbiamo già detto zero contagi ieri in provincia anche se i tamponi esaminati durante la giornata festiva sono stati un po' pochini appena 422 per il percorso nuove diagnosi però insomma possiamo dire che al momento i dati sono più che buoni la vicenda invece di raccontata sempre sul carriero di questa mattina di un insegnante si chiama Marco Manganiello che racconta un po' la sua odissea cioè lui è stato con la sua barca la sua famiglia in barcavela in Croazia ha navigato per le isole insomma croate splendide isole croate ebbene quando è tornato ha fatto il suo dovere di cittadino siccome non era in una in una nave da crociera o quant'altro quindi andato da solo poteva anche svignarsela come fa qualcuno e far finta di non essere stato da nessuna parte quindi tornare a casa beatamente invece ha fatto il suo dovere di cittadino quindi ha segnalato o perlomeno ha tentato di segnalare ai numeri di telefono dell'Asul il suo rientro ma è stato l'odissea perché perché racconta lui dice l'insegnante che i due numeri individuati quelli indicati cioè un cellulare e un numero fisso e praticamente era come se fossero staccati e lui poi è riuscito dopo dopo tanto dopo credo un paio di giorni a parlare con uno di questi operatori il quale ha detto purtroppo siamo siamo in difficoltà e lui dice e non ha tutti i torti quando si perde fiducia nelle istituzioni poi prevale la furbizia cioè la prossima volta al posto di stare attaccato tre giorni al telefono rientro in porto e chi si è visto si è visto viaggio a covid e questa è un'altra storia invece raccontata sul giornale di questa mattina è Maurizio Gennari a raccontarlo al giornale il decano dei commercialisti scampato al coronavirus che ha pubblicato un diario un diario scritto dopo 42 giorni di ricovero lui dice ho voluto raccontare questa esperienza in questo diario in modo informale intitolato viaggio a covid 3 e ritorno lo ha scritto durante le ore notturne trascorse attaccato da un respiratore ad ossigeno per lasciarlo per lasciare un segno che non sia che non siano solo le cartelle ospedaliere chiaramente non è stato intubato perché altrimenti non avrebbe potuto scrivere il 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 suo diario però era attaccato un respiratore quindi probabilmente aveva la mascherina dell'ossigeno quindi comunque era era vigile tant'è che insomma si ricorda tutto si ricorda dei momenti in salita dello scoramento della solitudine della speranza della sofferenza e si ricorda anche tutte le ore di preghiera fatte in quei momenti però lui la può raccontare e lo fa appunto con questo diario c'è anche zenga dicevamo zenga junior positivo dopo la sardegna lo racconta il corriere questa mattina sulla pagina di osimo del giornale l'ho preso sul traghetto ma sto bene andrea figlio di walter fa outing sui social dice sono stato contagiato dal covid viaggiando con passeggeri infetti questo è andrea zenga 27 anni non ho sintomi dice neanche un mal di gola è capitato a me come sarebbe potuto capitare a chiunque da urbino invece assalto di turisti bagnanti ai fiumi atti di vandalismo in zona tre pozzi distrutta la diga per la balneazione i ragazzi come andare come avere i ladri in casa l'assessore dice occorre però disciplinare chiaro che dove il mare diventa difficile da frequentare anche perché c'è tanta gente i ragazzi si sono un po organizzati e sono andati un po lungo i fiumi qui siamo nella zona di cagli dove la diga è andata distrutta tronchi divelti e lanciati in mezzo alla gorga sassi spostati a forza e ammassati ai margini del fiume insomma questo è lo spettacolo che domenica mattina si sono trovati di fronte i frequentatori della gorga del fiume bosso conosciuto con il nome di tre pozzi appunto a cagli centinaia di auto in sosta lungo le strade vicino a bosso e burano niente distanziamento covid insomma un po così giro d'italia under 23 sempre da urbino rivoluzionata la viabilità cosa cambia per spostarsi in città venerdì e sabato e le modifiche le potrete leggere sul sito del comune di urbino ma anche sul giornale di questa mattina dal carlino cancellieri me ne vado con le mani pulite il giorgio cancellieri il presidente di urbino servizi sull'inchiesta dice verrò prosciolto perché non ho fatto nulla quindi qui ho trovato persone valide il mio ruolo non era compatibile con la candidatura alle elezioni regionali e dunque si è dimesso il presidente giro d'italia in città viabilità rivoluzionata anche il carlino fa l'elenco delle vie che subiranno delle variazioni ovviamente per il passaggio del giro d'italia ma giro d'italia dei ciclisti che hanno meno di 23 anni quindi gli atleti under 23 mentre dalla valmetauro priorità a strade scuole e patrimonio culturale il sindaco di fossombrone gabriele bonci replica alla minoranza dice nessuna incuria per la sede storica il progetto è complesso e la sede del palazzo degli uffici di piazza dante che hanno gli infissi nuovi ma sono stati criticati e bonci dice non abbiamo avuto modo di intervenire sulla sede comunale di corso garibaldi che presenta annose criticità non solo sulla copertura ma anche per quanto riguarda la fruibilità e l'accesso sia alla sala consigliare che agli uffici mentre accoglie al metauro ora la banda larga è a disposizione degli operatori accoglie al metauro messa sul mercato da open fiber mentre sotto uffici aperti solo un giorno ora qui c'è un problema un problema a terra roveresche perché qui vedete il sindaco antonio sebastianelli che tra l'altro dice ormai farò un esposto al prefetto di peso urbino praticamente ci sono uffici postali quelli dei municipi di barchi e di san giorgio di pesero che sono aperti soltanto un giorno alla settimana e ovviamente potete immaginare anche voi creano disagi alla gran parte delle persone ancora di più agli anziani perché avere un ufficio aperto una sola volta la settimana insomma non è che sia un gran servizio e allora dice antonio sebastianelli scriverò e farò questo esposto al prefetto anche perché ho un po il sospetto dice lui che l'emergenza sanitaria ha fatto da pretesto per ridurre definitivamente l'apertura e poi probabilmente anche la chiusura definitiva di questi di questi uffici postali ecco perché l'iniziativa del sindaco andiamo sulla pagina della valle foglia il candidato presidente non ha alcun avversario una sola lista scontatta dunque l'elezione dei dieci consiglieri del nuovo municipio di monteciccardo e il candidato presidente e questo claudio bonazzoli che è un ingegnere e il candidato presidente per il municipio di monteciccardo della lista civica in comune monteciccardo è un giovane ingegnere che presta servizio presso il gruppo era valcesano invece il catre invaso dai rifiuti è un segno di inciviltà l'azienda consorziale lamenta la maleducazione di chi abbandona o lascia sporcizia con cassonetti pieni sacchetti devono essere riportati a casa invece la gente li abbandona lì fuori non ho mai visto una persona tornare a casa con un sacchetto perché ha visto il contenitore pieno e quindi uno dice lo lascio lì e poi però qualcuno so già che protesterà e dire più che riportare a casa fate più viaggi voi e fate in modo che questi cassonetti vengano svuotati magari più volte la settimana calcio al via con attenzione alle norme anti covid ritornano in campo i ragazzi del mondolfo in vista della promozione siamo in chiusura senigallia ponte rosso il regno del tennis è cancellato da rifiuti e bivacchi crollata anche una parte della recinzione dell'impianto sportivo i residenti chiedono più sicurezza l'ultima pagina da ostra morto l'imprenditore olivetti era stato presidente della bcc aveva 89 anni il figlio candidato sindaco senigallia grazie per i valori che hai trasmesso e grazie a voi invece per l'attenzione la rassegna stampa torna domani mattina alle 7 puntuali stasera invece c'è l'appuntamento con il telegiornale occhio alla notizia tutta l'informazione la trovate come sempre non solo sul canale 17 ma anche sul sito internet sul nostro portale occhio alla notizia punto it arrivederci